Stefano Allasia, che cosa avete chiesto al Governo? Abbiamo chiesto quali saranno i provvedimenti disciplinari che prenderà il Ministro Franceschini in merito ai due casi emblematici in Italia sui sovrintendenti che hanno abusato del proprio potere. Nel caso di Torino, dove c'è stato nei mesi scorsi un arresto dovuto al fatto che c'era il sovrintendente che aveva abusato del proprio potere e utilizzato malamente i fondi pubblici e dall'altra parte quello in Friuli-Venezia-Giulia dove costantemente con enormi ritardi blocca le pubbliche amministrazioni, andando in contrasto anche all'autonomia stessa del Friuli-Venezia-Giulia. Che cosa ha risposto il Ministro? Il Ministro non ha risposto, ha detto che assolutamente non ci sono abusi in tutti i due casi ma è emblematico soprattutto quello di Torino dove c'è stato effettivamente l'arresto del sovrintendente Pernice perciò è impossibile negare l'evidenza. Quindi non siete soddisfatti? Assolutamente no, la soddisfazione non passa da una mezza risposta noi continueremo a incalzare con gli atti ispettivi al Governo sui sovrintendenti in tutti i paesi, in tutte le città. Basta? Che dici la passo?